Mi chiamo Piotr Frank e su questo canale mi conosciamo Stiamo arrivando ormai al decimo anniversario e abbiamo fatto uscire in questi anni tantissimi un video che pensato che fosse arrivato il momento di fare un video diverso e vi possa servire come diverso in mezzo alle Dolomiti Trentine, proprio sotto l'imponente massiccio del Gran Vernel e della Marmolada, in una struttura ricettiva di eccellente experience Summer Camp che è leader nel settore dei campestini barraghino. Ciao le Impallinati, nei prossimi giorni vi porterò un paio di video interamente destinati ai partecipanti del Junior Softair Camp. Vi spiegherò cosa incontrerete al vostro arrivo attraverso una guida dettagliata alle attività e ai criteri di selezione e organizzazione delle squadre e dei gruppi di applicazione. Potrete capire bene qual è lo spirito del camp e scoprire un po' di più quali sono le caratteristiche più importanti su cui lavorare, il mindset giusto e cosa vi aspetta. Anche quest'anno ci saranno grandi novità per passare un'esperienza come al solito indimenticabile. Gruppo libero oppure più libero per chi si sente un'esperienza. Vi aspettiamo tutti al Junior Softair Camp. Non perdetevi i prossimi video, mi raccomando. Da Pio3 è tutto. Ciao la Impallinati.